buongiorno benvenuti a questa video analisi del 2 dicembre 2015 dedicata a questi 28 cross inseriti nel mercato del forex video analisi che potete ricevere gratuitamente via email attraverso l'applicazione gratuita telegram che è molto simile a whatsapp si può installare su smartphone tablet pc come fare se passate sul ma con il mouse sopra il video compare qui in alto a destra una i cliccando su lei vi riporta al link per dove spiega del mio sito dove spiega appunto come ricevere via mail e via telegram su telegram vengono inviate oltre alla video analisi anche gli aggiornamenti relativi a violazioni perforzioni supporti resistenze inversioni con le candele chi nasce insomma tutto quello che serve da sapere oltre non solo con questa video analisi bene ricordo anche che prima di partire con l'analisi appunto che questo è il grafico con le candele giapponesi normali base giornaliera poi ci sono i grafici e chi nasce qui a destra su base giornaliera settimanale e mensile grafici e chi nasce che non sono né un indicatore oscillatore ma solo uno strumento in più che ci aiuta tantissimo e non è poco nell'individuazione di quello che il trend in corso bene domani oramai siamo alla vigilia di un importante appuntamento con mario draghe tutto il board della bce domani sapremo insomma cosa intende fare draghi oggi non è stato di aiuto per l'euro il dato sull'inflazione che già era 0 1 si aspettava un 0 2 e invece è rimasta ferma lo 0 1 pensate che la bce invece intende arrivare nel medio termine ovviamente non subito vicino al 2 per cento siamo ricordo 0 1 quindi immaginate quali quali potranno essere le conseguenze domani con mario draghi e magari ne parleremo domani la video analisi domani quello che potrà dire e fare mario draghi solitamente tende a sorprendere in positivo fa di più vedendo gli ultimi meeting precedenti di mario draghi solitamente ha fatto oltre quelle che erano le attese quindi attenzione domani da seguire con molta attenzione quindi il meeting della bce euro che proprio ieri vado sul grafico a chi nasce si intravede una piccola candela verde che per il momento ignoriamo aspettiamo una conferma migliore oggi anche se non è il massimo proprio prendere posizione al rialzo di euro il giorno in cui parla draghi quindi se ci sarà sempre da usare con molta cautela ma oramai è da diverso tempo se estendo il grafico da quando praticamente si era vicini a 1,40 era maggio 2014 poi c'è stato tutto il crollo dell'euro dollaro con quella che la politica annunciata e poi attuata dalla bce fa pensare insomma attenzione a posizionarsi al rialzo certo qui già fatto notare i giorni scorsi c'è stato un bel supporto è proprio lì che adesso siamo si ritrova l'euro alla vigilia del meeting appuntamento con mario draghi da monitorare la partita scacchi si gioca tra euro dollaro e il cross con cui è correlato inversamente sale uno scende l'altro e il dollaro contro franco svizzero che recentemente ha toccato dei massimi di periodo ovvero lo scorso 27 novembre 1 0 3 2 8 siamo arrivati sopra i massimi i livelli del famoso 15 gennaio questi qui 2015 anzi abbiamo sì sopra i massimi quindi del 15 gennaio quando c'è stato questo crollo con la banca centrale svizzera che ha tolto il cambio minimo 1 e 20 nei confronti dell'euro e anche qui c'è un timido accenno di candela rossa che quindi conferma l'impostazione che abbiamo appena visto su euro dollaro quindi come sempre da continuare a monitorare con attenzione entrambi i cambi altro cambio interessante sicuramente è la sterlina oggi ha sofferto il dato che è uscito alle 10 e 30 ieri c'è stata una candela verde sul grafico Aikinashi che siamo su un livello c'era stata recentemente una perforazione del livello che era un po più in alto sopra un po più sopra rispetto adesso dove ho tracciato il supporto 50 e 35 potrebbe quindi a questo punto aspettarsi vedere se accadrà quanto inizio mese un rimbalzo fino a 1 e 53 oppure qualcosa di più verso la resistenza 1 54 e 77 ma il forex non si ferma solo ai cambi contro dollaro gbp usd in questo caso perché se vediamo le combinazioni della sterlina contro gli altri contro l'australiano al ribasso da quando ha rotto il supporto contro il canadese ripiega da questa resistenza contro il franco svizzero anche qui in discesa insomma in una fase di possibile ribasso contro lo yen è già partito un bel movimento contro il neozelandese tutto già fatto questo movimento della resistenza 2 35 siamo su quella 2 26 insomma tutte le combinazioni se siete avete eseguito una di queste operazioni precedenti questa qui praticamente contro il dollaro servirebbe a mitigare la vostra esposizione fino a questo momento al ribasso contro il dollaro la sterlina rispetto all'analisi di ieri c'è da far notare il movimento la forza che oramai acquisito l'australiano e sono saltate due resistenze aud cad australiano contro il canadese doppia resistenza questa statica e dinamica idem per l'australiano contro yen ma già si era visto ieri si aspettava praticamente solo l'ufficialità e ora come ora potrebbe avanzare fino a 92 e 50 mentre aud cad lo aspetta un po più in alto questo livello 0 98 50 e poi la parità però ovviamente vedremo se si formeranno o meno qui su questo grafico ai kinashi delle candele rosse l'euro che abbiamo visto si intravede la candela verde si è formata invece ufficialmente su eurcad euro contro canadese quindi alle prese adesso con questa ex resistenza dinamica e anche euro contro yen faccio vedere eccolo qui candela verde nella seduta di ieri e primo obiettivo questo ex supporto che adesso fa da resistenza quindi queste sono le novità adesso faccio una veloce carrellata di tutti quelli che sono i 28 cross non faccio vedere la sterlina ho mostrato già poco fa potete mettere in pausa il video per prendere nota dei livelli che spesso sono indicati qui a sinistra i vari numeri quindi riferimenti numerici quindi l'australiano contro il canadese questo è contro il franco svizzero praticamente ho fatto vedere già c'è una situazione di forza dell'australiano contro dollaro e alle prese con questa bella resistenza questo è canadese contro franco svizzero contro lo yen franco svizzero contro lo yen e poi le varie combinazioni dell'euro contro l'australiano, il canadese, il franco svizzero, la sterlina che ancora regge il supporto e sarà interessante vedere adesso gli sviluppi della candela verde che si è visto in cui di possibile inversione contro sterlina contro dollaro che effetti avrà su euro sterlina, euro neozelandese e l'euro dollaro l'abbiamo già visto la sterlina già mostrati poco fa NZD invece contro il canadese, questo è il neozelandese nei confronti del franco svizzero contro lo yen e contro il dollaro prosegue il rimbalzo USDCAD sta seguendo da vicino come sempre detto più volte le evoluzioni sul petrolio mercato con cui è correlato inversamente, negativamente dollaro franco svizzero vedremo se sarà confermato o meno la candela rossa questa notte e questo è il dollaro yen, 123.11 sempre poco sotto questa mini resistenza bene con questo è tutto, vi ringrazio per la cortesa attenzione ed auguro a tutti voi una buona giornata